Cos'ha una Mustang di diverso rispetto alle altre? Un logo iconico, una storia da cult movie e un chilometrico cofano che si chiude come uno scrigno magico su un poderoso motore V8. Non è una supersportiva vera e propria, troppo pesante, poco aerodinamica, troppo muscolosa, troppa in tutto in senso assoluto, ma questo suo essere fuori dagli schemi l'ha resa un mito. Un mito americano al pari di altre muscle cars delle strisce, con tanti cavalli sotto al cofano e tanto rumore allo scarico, perché questo vuole chi sceglie una brucia semafori. Sentire il rombo del V8 è puro piacere e fare copia e colla del logo Mustang su un SUV on elettrico è davvero altra cosa. Comunque tornando a bomba sulla nostra protagonista, la novità a tutta performance targata Ford è la nuova Mustang Dark Horse con il suo V8 super vitaminizzato. Sotto il cofano la Dark Horse monta il V8 5 litri aspirato più potente di sempre. Con bielle forgiate dalla GT500 sovralimentata ed una messa a punto specifica del software, eroga più di 500 CV, anche se a noi arriva una versione meno esasperata con una cinquantina di cavalli in meno. Sebbene non offra una coppia stratosferica ai bassi regimi, come alcune delle sue concorrenti sovralimentate o turbocompresse, la potenza è sufficiente per una spinta comunque poderosa. Il motore aspirato offre una risposta lineare, con la coppia che aumenta fino ad un picco di 4.900 giri al minuto e rimane costante fino all'imitatore. Per avere il massimo piacere di guida è consigliabile abbinare il V8 al cambio manuale a sei marce. Tuttavia, per chi ama la comodità, c'è anche un cambio automatico a dieci rapporti. Con il suo aspetto possente da muscle car e tutte le forme che vengono enfatizzate da appendice aerodinamica DOC, vedi lo spoiler posteriore, è senza alcun dubbio la versione più accattivante della settima generazione Mustang. A bordo l'approccio è essenziale nei comandi, ma si traduce in un ambiente che offre materiali di qualità superiore, in un allestimento premium che non lascia nulla al caso e con l'opzione dei sedili Recaro che offrono un ottimo sopporto a chi ha velleità da pista. Il nuovo pacchetto tecnologico include strumentazione digitale e un display centrale, con grafiche specifiche per le modalità di guida più sportive. Le sospensioni adattive di serie offrono una risposta variabile, a seconda della modalità di guida, dalla più confortevole Normal alla più performante Track, che la rende rigida come un kart, garantendo una maggior presenza e sicurezza in curva. In pista, la Dark Horse dimostra un'agilità inconsueta, viste le caratteristiche a cui siamo abituati, ed un comportamento impeccabile grazie al pacchetto Handling. Insomma, se la scelta di condividere il logo Mustang con le elettriche Ford ci aveva fatto storcere il naso, con la Dark Horse lo spirito Mustang ha ridato spessore e peso ad un'icona che non può prescindere dal suo inconfondibile V8. . . .